Lunghe o corte? Le gambe sono sempre belle! Avete visto il nuovo video dei BTS? Oh mio Dio! Cosa sta succedendo? Un terremoto! Sta arrivando Godzilla! Aiuto! Siamo troppo giovani per morire! Dieci minuti di cardio ogni giorno! Sto andando alla grande! È ora di allenarsi! Susie si sta allenando duramente! Che succede al mio piede? Oh, una vescica! Jenna, è un cerotto! Certo! Aspetta! Ecco qua! Per quale parte del corpo è questo? Per una gamba da gigante! Grazie, Jenna! Ora tutta la mia gamba è al sicuro! Devo tagliarmi le unghie dei piedi! Allora vado! Ciao! Ciao, Susie! Ah! Che cos'è? Che schifo! Torna indietro, unghia boomerang! Vai via, unghia! La gara sta per iniziare! Pronti! Partenza! Via! Saltate! Vai! Salta più veloce! Andiamo! Raggiungiamola, Martin! E il vincitore è... La borsa blu! Congratulazioni, Jenna! È ingiusto! È lì dentro da sola! Sì, Susie! Abbiamo vinto! Lo sapevo! Siamo le migliori! Non preoccuparti! Non farà male! Ah! La mia gamba! Grazie per aver fatto in fretta! Oh! Ciao! Sono qui per farmi la ceretta alle gambe! Oh, accidenti! Avremo bisogno di una striscia più lunga! Pronta? Stacco! Sì! Wow! Fatto! Grazie! Adoro fare jogging all'aperto! È così rinfrescante! Ma prima devo riscaldarmi! Da dove viene quella sbarra? È strano! Non era qui prima! Torniamo indietro! Ora l'altra gamba! Ho fame! Friggerò un uovo! Hai! Vuoi la colazione? Serviti! Questa porzione è enorme! Mi durerà per giorni! Ho qualcosa nel piede! È una scheggia! È una scheggia! Susi! Cos'è successo? Stai bene? Ho una scheggia! Aiutami a tirarla fuori! Fa male! Non ti muovere! La prendo! Presa! È un intero albero! Scusami! Scusate! Questi posti sono per le formiche? Sono così scomoda! Le mie gambe non ci stanno! E se le allungassi? Che comodità! Ehi! Cos'è questo strano odore? Che puzza! Oh, tiro giù le gambe! Siete tutti così sensibili! Ciao Susi! Sono appena andata ad un appuntamento fantastico! Penso che sia quello giusto! Ho trovato anch'io la mia dolce metà! Belle scarpe! Posso provarle? Per favore! Ok! Ecco! Puoi tenerle! Non sapevo che i lacci fossero così lunghi! Sono tutta grovigliata! Avanti! Avanti! Il tesoro è vicino! Controlliamo la mappa, piccola! Dieci passi avanti e saremo arrivate! Andiamo! Sei, sette, otto... Capitano Jen! Non è questo quello che stiamo cercando! No! Altri due passi! Eccoci! Scava qui, piccola! Oh, guarda! Un tesoro! È mio! Buona fortuna, pirati! Continua a scavare! Una cabina fotografica! Andiamo, Jenna! Sorridi! Un'altra! Qualcosa non va in queste immagini! Susy non arriva all'altezza! E Jenna non ci sta! Oh cielo! Le immagini non sono venute per niente bene! Farò un collage! Ci siamo! La nostra foto è pronta! Cosa ne pensi? Cosa? Ottima idea! Uno, due, tre, quattro... Mi sto allenando da cinque minuti! Vediamo se ho perso peso! I numeri sono troppo lontani! Ho bisogno di un binocolo! Yes! Sì! Ho perso trenta grammi! Ciao! Vorrei fare la pedicure! C'è un sacco di lavoro da fare! Tiriamo fuori le armi pesanti! Sono pronta! Andiamo! Che stress! Stai andando alla grande! Abbiamo finito! Oh! Fantastico! L'ascensore è un posto pericoloso per le persone basse! Oh oh! L'ottavo piano! Non riesco a raggiungerlo! È troppo in alto! Oh! Ho un'idea! Sapere è potere! Adesso posso premere il pulsante giusto! Scusate, sono in ritardo! È così scomodo! Il banco è così basso! Le mie ginocchia non mi permetteranno di imparare! Aiuto! Non mi trovo bene in questo collet! Jenna, stai ferma! Oh no! Le mie lunghe gambe si stanno attaccando a tutte le vecchie gomme sotto al banco! Non è divertente! Ah, che schifo! Scusate, sono in ritardo! Ok! Siediti! Stiamo facendo un test! L'istruzione è una tortura per le persone basse! Aiuto! Questo test è troppo difficile per me! Tempo scaduto! Consegnate i vostri fogli! Sì! Sto arrivando! Dov'è la mia ragazza? Oh, eccola! Ciao, mia alta regina! Ciao, mio re basso! Dai, ti prendo io! Questo è amore! Polly, puoi tenere la mia borsa per un secondo? Wow! Questa non è una borsa! Un'intera casa! Polly, dove sei? Wow, cosa succede? Polly, come sei finita lì? Lavare i piatti è facile! Se sei alto un metro e cinquanta! Ma se sei alto, lavare i piatti è un'avventura acrobatica! Come fanno le persone alte? Mi fa male il collo! La mia schiena! Ti è piaciuto vedere diversi problemi con le gambe? Allora commenta qui sotto e dici quanto sono lunghe le tue fantastiche gambe! E voi ragazzi, iscrivetevi al nostro canale, mettete like a questo video e fate clic sulla campanella! Non perdetevi nessun nuovo esilarante video di Woohoo!